La stretta di mano davanti Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Azerbaijan Adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Matteo Renzi E dal Presidente della Repubblica di Azerbaijan Kilam Ailie Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo Firmano per parte italiana il Ministro per le Infrastrutture, i Trasporti e le Telecomunicazioni Onorevole Maurizio Lupi E per parte azerbaijana il Ministro dell'Energia Nati Alijer Dichiarazione congiunta sul trasporto marittimo Grazie. 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 Grazie.